Cari amiche, cari amici, cari tutti, due brevi informazioni, un breve aggiornamento sull'organizzazione della 23esima Eurotask Conference, la World Eurotask Conference che si terrà dal 4 all'8 ottobre in Toscana, in quel fantastico posto che è il Garden Toscana Resort. La prima buona notizia che avremo tra noi il professor Erwin Laszlo e il professor Jim Fediman, uno dei fondatori della psicologia transpersonale, che parteciperanno alla tavola rotonda sull'eredità del transpersonale, Transpersonal Legacy Hybrid Panel. La seconda è che abbiamo già oltre 45 presenters, relatori, che si sono iscritti e che ai posti, per esempio per i relatori di eccezione, sono meno, quindi dovremmo arrivare a una selezione. Per cui chiunque si è interessato a presentare, a dire qualcosa alla comunità, è pregato di fare il più presto possibile. Perché anche se la deadline sarà il 15 marzo, dovremmo arrivare a fare una selezione. Per cui, forza, date del vostro meglio, portate dei vostri proposti migliori, portate il cuore oltre l'ostacolo. Join us!